9, 9, 9 giorni non c'è mai staccato un ciclone ci sta, ma come se ne ho tirato il senso non direi il presentario Samir, di qualcosa io Samir, tu non capiri io con il mio cazzo ti trappaso tutto quanto Monelli Monelli cosa c'è questo, cosa c'è questo dove cazzo sta qua cosa c'è questo, cosa c'è questo la giornata mi ha fatto incazzare la giornata mi ha fatto incazzare ecco e nulla io comunque sto al Torino Comics per un altro giorno oggi e sabato e domani poi vabbè starò a Como e nulla e ora devo lavorare non no no grazie a tutti a